Ora, Mester Titarota, festa d'addio alla Tampa Lirica e per l'occasione la Tampa ha invitato un grande musicista di jazz, Piero Bassini, al pianoforte. Un bilancio subito di questi cinque anni? Beh, è difficile fare un bilancio di cinque anni, direi che così, a grandi linee, è nettamente positivo. Certo, si può sempre fare di più in tutte le cose, anche quest'anno si poteva forse fare di più, però direi che le difficoltà che abbiamo trovato quest'anno sono state molte, quindi se non decisamente positivo, buono direi, ecco, sufficientemente buono. Dal punto di vista affettivo? Dal punto di vista affettivo lei lo sa benissimo, io mi sono trovato benissimo qua a Piacenza, ho degli amici carissimi, delle persone con le quali mi fermo, sento la musica, vado a visitare le cose meravigliose che ci sono nella città, anche se purtroppo non ho mai molto tempo perché faccio il pendolare avanti e indietro, ho anche una famiglia con cinque o quattro figli e ne ho cresciuto uno quasi. E quindi direi benissimo, i rapporti lo si vede qua, ho parecchi amici, quindi io vado via a Piacenza con un po' di rammarico, quello credo lo possano pensare tutti perché stare cinque anni in una città si sente, o uno è insensibile, se no si sentono che alcuni legami si creano e quindi ritengo, come ho detto prima, positivo il mio lavoro qua e adesso dopo cinque anni di buon lavoro, è bene non rovinare niente, quindi con grande cordialità, con i ringraziamenti dovuti al Piacenza che mi ha fatto venire qua a lavorare, al Presidente dell'Ing. Garilli, ai miei collaboratori, al Vice Presidente dell'Ing. Quartini, a Brolis, a tutta la gente che lavora, ai miei collaboratori vicini sul campo, parlo di Baggi, di Sergio Montanari, di Paolo Pulici che è arrivato quest'ultimo anno. Insomma li ha citati quasi tutti? Tutti, tutti, naturalmente, è gente che lavora con me da cinque anni, è gente che ha partecipato a tutte le cose positive e negative, sono state anche di negative, non voglio dire che tutto quello che è stato fatto è stato perfetto, direi che è stato abbastanza buono. Lei accennava prima, scusi mister, a queste difficoltà dell'ultimo campionato, per esempio, molto succintamente, quali sono state le difficoltà maggiori incontrate nel girone di ritorno che, sappiamo tutti, è andato un po' incalando? Certo, è stato questo, che alle prime difficoltà, tutti le hanno prese queste difficoltà come se fosse una cosa incredibile che ci fossero, mentre invece era normale che ci fossero delle difficoltà, non si poteva pensare che tutto andasse come nella prima, certo si vorrebbe che tutto andasse sempre bene, ma purtroppo non è così e nei momenti difficili bisogna esserci tutti. A proposito di momenti difficili, escludendo quest'annata, qual è stato il momento più brutto per lei? In cinque anni? No, è un momento più brutto, lo dicevamo prima, è stato lo spareggio là, visto poi dopo diventa ancora più brutto del normale, anche perché coinvolge una cosa profonda del nostro lavoro, una lealtà, che nello sport dovrebbe essere una delle cose più sicure, e poi naturalmente è migliore la promozione dell'anno scorso, la promozione del primo anno e poi lo stare assieme a lavorare. Io, a proposito di amici, c'è un gruppo che viene sempre agli allenamenti e quelli per forza erano miei amici perché erano sempre lì tutti i giorni, se non sarebbe successo il fine mondo e fortunatamente quelli che venevano lì, anzi, li saluto e li ringrazio a tutti perché in questi anni sono stati veramente di un aiuto notevole, delle persone simpaticissime e carissime, parlo di tutti quei tifosi che vengono lì anche agli allenamenti, che seguono tutti i giorni, ne sanno più di me, e quelli fortunatamente tenevano le loro cose dentro, vedevano quello che succedeva e poi gli andava quasi sempre tutto bene, non sempre naturalmente, quindi io saluto di cuore tutti i piacentini, tutti indistintamente. Ma più bello è stata veramente la promozione in B o in C2, in C1? Ma io l'ho detto prima, quella della C2 in C1 è stata più difficile di questa, proprio per una serie di situazioni che c'erano, che la squadra era stata un po' improvvisata, c'era quello che c'era, c'erano anche dei buoni giocatori naturalmente, però c'era l'imperativo di salire, perché rimanere in C2 voleva dire già dimezzare quelle che erano le possibilità future della società, anche come mentalità, come psicologia, come volontà, anche come… e quindi è stato un anno duro, duro veramente, duro come tutti, nel caso, quando si fa un campionato per vincere il campionato, ci sono sempre delle difficoltà, come dico, le abbiamo superate tutte, adesso siamo in B, siamo rimasti in B, che era un traguardo un po' particolare, come a piacenza ho visto i tre scorsi. Sì, questa, bene, grazie. E adesso mi auguro che le prossime promozioni le facciano gli altri, ce n'è ancora uno da fare, non è finita. Ecco, mister, siamo quasi alla fine di questa intervista, ci concede ancora qualche secondo, lei quali giocatori salverebbe per il prossimo campionato? Eh, una domanda questa, se viene a Bergamo dopo che è incominciato il prossimo campionato glielo dico, però ne salverei tanti, ecco, questo è sicuro. E una sua idea invece sul campionato europeo, l'Italia? Beh, l'Italia ormai per molti l'ha già vinto, per molti altri dovrebbe vincerlo, per me è probabile che riesca a vincerlo, perché la squadra sta andando molto bene, direi, cioè con uno spirito nuovo, con degli schemi attuali che non sono quelli che vengono dalla stratosfera ma vengono dal nostro calcio e si sta giocando veramente bene, quindi avanti così che diventiamo anche campioni d'Europa. E Titarotta dopo Piacenza Calcio? Titarotta si sdraia sul, sdraio nel giardino e col sole di queste giornate e poi probabilmente mi riverrà la voglia di calcio perché è tutta la vita che faccio questo e quindi penso che ne farò ancora del calcio, non smetterò, però per adesso un po' di riposo credo di averne bisogno. Grazie a mister Rota, grazie, tanto a voi.